il movimento del minardo a Ciccotosto, Tornacchia, Gassino, Luis, Ambrosini che prova a imbutare per il tre Ciccotosto, conteggiato sia da Silvio, uh che da Borgia, esce Ciccocosto, tra due giocatori uscite Ciccocosto e andava a segnare, di nuovo la barriera sulla linea, vediamo se adesso riusciranno a restare tutti fermi, di nuovo Carota sulla palla, che riscarica Silvio, tiro di Silvio, rete, 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 sì, sì, c'è Speranza, posizionato benissimo, l'abbiamo visto anche noi da qui, rete, al nono. Correggiare per la Rover, la Rover è l'embuca, fa buona guardia avanti, che prova a mettere in moto Carota, correggiare per Cornacchia, correggiare, correggiare alla Rover, ancora correggiare, ancora correggiare, la mette largo a Ciccotosto, bellissimi gol, che gol, al credice, minerva, con l'otto, allarga per Dell'Oso, ancora Di Nardo, che dà una palla bellissima per Dell'Oso, si allarga per la Rover, fuori per Di Lorenzo, che si va a rifugiare ed Ambrosini, intelligente, fa girare la palla, ai nostri svagati, di nuovo Di Nardo, supera Carota, nettamente, ci mette la pezza di lì, se poi Di Nardo va a fare la palla, di Lorenzo, laterale, laterale, schiacciato, Carota, per Jesus, Jesus, finita, va al tiro, bellissimo, il tiro parante, Ambrosini, Ambrosini, prova a riducarla, e, e segna Ambrosini, e segna Ambrosini, 4 a 1, il ventesimo. Jesus, fuori, Dante, Joao, Dante, Jesus, Impolenti, 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 Valenti, Joao, Dante, Sbaglia la palla, e ancora un gol, ancora un gol, palla persa, al ventiduesimo. Joao, in buca per Dante. Luis, Carota, Luis, Luis, Carota dietro, Carota dietro c'è anche Jesus, c'è anche Jesus, Carota lotta, combatte con Di Nardo, alla fine a Jesus che dà la palla a Di Nardo, tira, tira, o signo, non loco.